Ciao a tutti, nuovo video FUUCK dove io rispondo, ma perché parlo così? Dove io rispondo alle vostre domande che sono sempre sul confine labile tra trash e cultura e questa cosa mi piace molto perché vuol dire che lo spirito del mio canale vi è entrato nel cuore. Nel frattempo fuori i grilli cantano e io vi dico che per farmi una domanda è necessario avere Twitter. Ebbene sì, e farmi una domanda sotto l'hashtag FUUCKMATTEOFUMAGALLI. Perché? Per fattore di comodità, perché se io dovessi salvare le vostre domande ogni volta che me le fate, impazzisco. Quindi lì clicco sull'hashtag e chi capita capita. Ovviamente le seleziono, sono tutte super interessanti ma evito le domande che mi sono già state fatte. Nel caso non abbiate Twitter, non temete, potete farmi comunque una domanda. Oh che onore! E lasciare qua un commento sotto a questo video con la vostra domanda, ma solo se non avete Twitter perché è molto probabile che la vostra domanda su YouTube verrà riesumata dopo anni perché quando mi ricordo le recupero. E niente, iniziamo. Sono tantissime. Daniela Ciaramella, inizio proprio da te, mi chiedi tesina delle medie, del liceo e della laurea. Ok, allora, medie. Non c'era la tesina da fare. C'era da scegliere un tema macro, solitamente era un paese della geografia, in geografia che si collegava a tutto. Io avevo scelto la Cina e non mi ricordo tutti i collegamenti che avevo fatto, ma c'erano materie che non si collegavano. Avevo fatto la Cina che si collegava sicuramente con l'educazione tecnica per quanto riguarda le macchine agricole e con storia Mao Zedong. Poi c'erano materie a caso, tra cui musica. In musica dovevi portare una tesina su un tuo artista preferito, che poteva essere anche contemporaneo, non per forza attività al programma, e io avevo scelto ovviamente Bjork. E mi era andata di culo perché la tizia, la cappa della commissione esterna alla scuola, era fan di Bjork. Incredibile. Lei si è casata di brutto. Ma come ho un ragazzino della tua età che ascolta Bjork? E quindi metà del mio esame orale alle medie è stato parlare di Bjork con sta tizia. E quindi mi è andato molto bene. La tesina del liceo invece l'ho fatta sul cinema surrealista giapponese, o meglio, surrealista non inerente al movimento surrealista, ma surreale, che partiva da Toshio Matsumoto e Shushita Rayama e si collegava da una parte alla Nouvelle Vague giapponese, quindi Aki Oji Soji, Nagisa Oshima, Imamura, poi dall'altra parte i Pink Films, che sono i film a luci rosa, con Koji Wakamatsu, Masao Adachi, l'avevo fatta a squello. Mentre alla laurea ho fatto l'Accademia d'Arte, per chi non lo sapesse, ho fatto ovviamente la parte progettuale che prevedeva un corto e la parte teorica inerente al tema della noia. La noia perché noi siamo abituati a pensare che la noia sia l'esatto opposto dell'intrattenimento. E invece il cinema, molto cinema, sfrutta il tempo morto e le tematiche legate alla noia per trattare qualcosa. Il tempo morto a volte è fonte di una carica espressiva di un certo tipo e quindi la mia tesi era focalizzata su quello. Un tomo di 200 pagine. Ecco. E quindi parlavo noia, noia, sartra, manetta, ovviamente. Vabbè, fa niente. Fabu Luis mi chiede Qual è la città italiana che non ho ancora visitato ma che ti attrae particolarmente? Non esattamente una città, ma mi attraggono particolarmente le isole. Quindi Sardegna e Sicilia, che non ho mai visitato e che mi attraggono soprattutto dal punto di vista paesaggistico, più che altro. Vorrei vederle. Sempre tu mi chiedi qual è la mia pizza preferita. La mia pizza preferita, inorridirete, ma è sicuramente la zola e pere o zola e mele o zola e noci. Cioè, è di brutto. Tutti napoletani così. Immagino, però vabbè, a me piacciono da impazzire. Carpe Diem mi chiede Come ti chiami su Spotify? Vorrei seguire le tue playlist. Mi chiamo Matteo Fumagalli. Come mi dovrei chiamare? Sbrafandi, per salutare la Steffi86. Blankutz mi chiede Come ti senti al pensiero di poter influenzare molta gente con i tuoi video, consigliando o recensendo libri? Allora, il mio obiettivo è avvicinare alla lettura, o quantomeno, se non avvicinare, far comprendere che la lettura è un mondo, che non è necessariamente legato alla noia, al dovere o allo studio, anzi. E quindi cerco di farlo unendo intrattenimento e pisantume, ecco. Però sono io che sono così. Cioè, io porto me stesso. L'idea però è che, più che influenzare, vorrei che chi mi seguisse, vorrei che chi mi segue, avesse sempre le proprie idee. Io voglio lanciare degli spunti, che poi possono essere accolti, non accolti, oppure accolti e disaccordanti successivamente, però voglio creare proprio libertà di pensiero, è questo che mi piace. Allargare gli orizzonti, puntare a essere curiosi, è questo quello che voglio fare. E quindi spero che stia funzionando. Babin de Trenchcoat mi chiede, perché questi nickname che non so pronunciare, che è tutto attaccato? Se ricordo a te piace molto la letteratura francese, sapresti consigliarmi un libro in lingua relativamente facile? Secondo me potresti, potrebbe andare bene Bonjour Tristesse di François Sagan, che è un libro che io ho adorato, è in un francese molto semplice, secondo me te la cavi benissimo. Ed è anche appetibile per un pubblico adolescente, ed è bellissimo, è un bellissimo libro, ed è la prova che io dico sempre, non è vero che a 18 anni non si possa scrivere un grande libro, è raro, ma succede. François Sagan, grandissima scrittrice, ha debuttato con Bonjour Tristesse da adolescente, ed è entrata nella storia della letteratura. Questo libro è bellissimo, e è scritto in un modo molto semplice, quindi semplice non vuol dire risicato ovviamente, perché il talento c'è, ma semplice sicuramente anche da leggere in lingua, quindi ti consiglio quello. Bonjour Tristesse. Poi Bev Side Watson mi chiede, qual è la tua torta preferita? Non sono da dolci, sono team salato, ma comunque cheesecake liscia. Perché? Perché voglio mangiare la crosta di digestive sotto, semplicemente. Sempre Daniela Cioramella mi chiede, Matteo è la moda nel corso degli anni? Allora, prima di rendermi conto che esiste lo stile, e qua chiamiamo in auge insomiccio Carla Gozzi, io mettevo delle poracciate epiche, che non mi spiegava niente. La tuta, che però adesso andrei di moda, perché la tuta dell'Adidas, e sarei molto Tumblr, oppure la felpa della Lomsdale, non Lomsdale, proprio quella tarocca, e poi ho scoperto il grunge, ho scoperto il dark, e quindi ci si veste tutti i nero, e non si sgarra assolutamente, e poi adesso sono più in una fase casual chic, diciamo, non saprei dire la moda nel corso degli anni, io cambio sempre, volo via, ho avuto il periodo ero in chic, quindi molto influenzato dalla moda anni 90, un po' così, un mix tra elegante e sbattuto, ecco, mi piace, va bene. Ele Noir mi chiede, una domanda un po' trash, ha mai ascoltato musica coreana o giapponese? Sì, ma non pop, nel senso, pop pochissimo, e molto spesso solo per spirito trash, il K-pop serio, qualcosina, ma non è il mio genere, cioè sì, approvo, ma non l'ascolterei così tutti i giorni, ecco, ho ascoltato musica giappocoreana, trash, invece proprio trash, trash, che non è K-pop, J-pop famosi, cioè sono proprio delle poracciate, che non so neanche a dirvi, mentre ho ascoltato musica giapponese coreana, soprattutto, alternative, non saprei dirlo, comunque, mi piacciono molto i Boris, che sono un gruppo giapponese, stoner rock, metal, fanno mille generi, però stare sul stoner noise rock, sono bravissimi, altra artista giapponese che mi piace molto è Ringo Shina, che è una cantante giapponese fuori di testa, art pop, fuori di melone, tendente al jazz, acid jazz, boh, non saprei neanche definire quello che fa, poi, mi piaceva molto Salyu, che è una cantante giapponese, che ricorda molto Bjork, per certi versi, quindi quel tipo lì di musica, pop sperimentale, ci sta, poi, i te, scritto T e accento, che sono un gruppo giapponese post rock, molto bravi, e poi che altro ascolto, roba noise, di sicuro, coreana, mi piace molto Okyung Lee, che è una violoncellista, è bravissima, mi piace da impazzire, vabbè, troppe robe, vi sto dicendo, Souls, anzi, voi consigliatemi qualcosa di J-pop, K-pop, poh, tranne quelli famosi, perché io a Yumi Yamazaki, eccetera, li conosco, Girls Generation, eccetera, no, no, proprio di nicchia voglio, ecco, Souls Connected mi chiede, se dovessi essere un filtro di Snapchat, quale saresti? Non so se esiste, ma quello che oscura tutto, un filtro nero, guarda, per togliere il trash dalla vita, il filtro di Snapchat, vabbè, Dez mi chiede, un libro per iniziare con la letteratura nordica, difficile, ti consiglio quasi quasi Naif Super, di Erland Lowe, che ho trovato molto divertente, molto nordico, oppure L'anno della lepre di Arto Pasidin. Già da riga mi chiede, in tema Harry Potter, quale pensi sia il personaggio più sopravvalutato, e quello più sottovalutato? Sottovalutato, la Koeman, assolutamente, sopravvalutato Draco Malfoy, che almeno nella saga dei libri, ho trovato insopportabile, non so perché piaccia a tutti, a me, no, no, nei film è un po' meglio, perché io sto vedendo anche i film intanto, nei film è un po' meglio come personaggio, ma nei libri non si può vedere, cioè aiuto. Nobody mi chiede, cosa ne pensano i tuoi amici della tua professione da youtuber? A volte mi prendono in giro, però in generale mi supportano, o sopportano, e li guardano i tuoi video, alcuni sì, altri ne frega niente, credo, e tu cosa preferiresti? Come cosa preferirei? Tra l'altro, io per un po' non l'ho proprio detto, non l'ho detto, loro se ne sono accorti quando ho raggiunto un po' con i 30, 35 mila iscritti, non lo so, ma tu sa che io non l'ho mai detto, l'hanno scoperto così random, e boh, cioè, ma in realtà no, cioè, tranqui, non so neanche se li guardano i miei video, ma non li chiedo neanche, The Cherry Tree mi chiede, visto che sei abbastanza famoso, se ti chiedessero di scrivere un libro, lo faresti? Se sì, sarebbe un'autobiografia o un romanzo? Nessuno dei due. Allora, un libro che potrei scrivere, se mi dicessero, no, scrivi la tua roba da youtuber venduto, l'unica cosa che mi piacerebbe fare, è scrivere, dato che non ho qualità di romanziere, è scrivere però una sorta di saggio, tra virgolette, per riconoscere il trash, farei una guida al riconoscimento del trash, con una certa digressione sulla cultura pop, nel cinema, nella musica, nella letteratura, farei una roba del genere, se proprio dovessi scrivere qualcosa, ma non lo so, a parte che non arriverò mai a certi numeri, e quindi, niente, sfumato il pensiero nel vento, blown in the wind. Casate Irene mi chiede, un film che hai trovato migliore del libro? Tanti, in verità, ti nomino solo La pianista di Aneke, che secondo me, supera di brutto, il romanzo della Jelinek, e In the Mood for Love, di Wong Kar-wai, che supera il romanzo, Un incontro, di Liu Yi Chiang, questi due sono assolutamente i casi più eclatanti. Shiley Oakward mi chiede, Quale pensi che sia il tuo peggior difetto come lettore? La bulimia, secondo me, la bulimia letteraria, il voler leggere una roba dietro l'altra, stare lì con la pressa, è una cosa che a volte mi succede, perché mi interessano troppe cose, e non va bene, dovrei prendermi più tempo, forse. All Jingles mi chiede, rileggeresti Love, o le hashtag piccole cose che amo di te? Daniela Ciaramella mi chiede, meglio parlare di trash con intellettuali, o parlare con sadismo inevitabile, di cose intelligenti, con persone trash? Secondo me è una bella esperienza, in entrambi i casi. On mi chiede, Ciao Matte, Il primo posto che ti viene in mente, che vorresti visitare? Oslo. Continua così, un abbraccio. Anzi, l'Islanda, trattamoci bene, e il Giappone. Bivside Watson mi chiede, quale corrente artistica preferisci? Il minimalismo, quale corrente letteraria preferisci? L'esistenzialismo. Carpe Diem mi chiede, un amico deve raccontarti una cosa su Whatsapp, ma che domanda è? Preferisci ascoltare più audio corti, o un audio solo ma lungo? Un audio solo ma lungo, anche se io mando sempre gli audio corti, e Ilenia lo sa bene, quindi ti saluto Ilenia. Mi scappa il dito ragazzi, non riesco a farli lunghi io. Bivside Watson mi chiede, vivresti in un paese dove spesso non c'è il sole, come per esempio la Norvegia? Sì. Josh Febb mi chiede, per te esiste nella realtà una persona come Brolag? Sai che ho paura di sì, in verità? Vabbè. Ah sì, a Rebel mi chiede, il mattino adolescente avrebbe scritto al Fumacupido? E se sì, cosa? Sì che avrebbe scritto al Fumacupido. E... Bellissima. Sì che avrebbe scritto al Fumacupido. Gli avrebbe chiesto, ma perché a me capitano solo persone indecenti? Ma perché perdo la testa per persone che sono ridicole, che sono trash? E mi avrebbe risposto, Fumacupido mi avrebbe risposto, devi essere suddolo, non devi prenderti bene. Anzi, la risposta sarebbe stata smetti la sindrome da croce rossina, perché è quella che mi ha fregato negli anni dell'adolescenza. La sindrome da croce rossina, che colpisce tutti, uomini e donne, differentemente. è la cosa più oscena che esista sulla faccia della Terra. Se devi fare il croce rossino, la croce rossina, è meglio lasciare l'altro invagliare i suoi disagi. Ecco. Celian mi chiede, secondo te, quali sono gli elementi fondamentali per un buon libro per bambini? Uno che lasci un insegnamento. Secondo me, un buon libro per bambini deve essere in grado di trattare degli argomenti difficili per un pubblico infantile, come la morte, come la tristezza, questo genere di temi che di solito ai bambini si evitano, ma raccontati nel modo giusto. Ad esempio, come fanno, lo so, le Moni Sneaket o come fanno moltissimi altri libri. Ad esempio, il libro che vi ho fatto vedere nell'ultimo, Gioia per gli occhi, Storia corta di una goccia, con la metafora di una goccia che cade dal rubinetto e poi evapora e sparisce, è chiaramente una metafora della morte, della morte vista sotto un'altra prospettiva. Quindi, un buon libro per bambini secondo me fa questo, è capace di raccontare temi difficili con leggerezza in modo che il bambino li possa capire dalla sua prospettiva, non è male. Nicole mi chiede, andrà in vacanza da qualche parte quest'anno? Sì, ma non so dove, prenoterò all'ultimo perché il lavoro mi sta sommergendo, quindi quando sono più libero prenoto, vado, last minute proprio. Non mi ricordo chi perché non ho segnato il tuo nickname, perdonami, cosa significa per te essere intelligente? Per me significa, ci sono tanti livelli di intelligenza, in verità, c'è chi è più intelligente, non lo so, magari una persona non è intelligente in qualcosa, ma è più intelligente, non lo so, a essere sgamato, no? Secondo me ci sono tanti, tanti modi per essere intelligente, è difficile, è troppo generica questa domanda. Pato Ricco su Tampo mi chiede, per te videogiochi, film e libri sono sullo stesso livello, sono cose diverse, ci sono tipi di intrattenimento più validi di altri? Sono cose diverse, ci sono cose belle e brutte in ogni tipologia di intrattenimento, diffidate di chi dice che i film sono peggio dei libri, o che sono cose diverse, diverse, e i capolavori si fanno in ogni settore artistico e creativo, quindi chi cerca di dire è meglio la musica, è meglio il cinema, non ha capito niente, ci sono cose che appassionano di più, ma nessun tipologio di intrattenimento è meglio di qualcos'altro, sicuramente. Simona mi chiede hai avuto esperienze trash in amore? Hai agito subdolamente? Non sempre, non sempre, sapete, è un problema. AmSherlocked mi chiede hai una marca d'abbigliamento preferita? Allora, che mi posso permettere? Zara. A volte neanche quella mi posso permettere, però Zara, sicuramente, anche H&M qualcosa di buono ce l'ha. che non mi posso permettere Yoshi Yamamoto o Comme de Garçon. Giubia mi chiede qual è il mito di Platone che ti è piaciuto di più? Perché? La bigalata. È banale, ma mi ricordo la mia prova di filosofia quando lo raccontava, mi spezzava, era fantastica. Quindi sì, la bigalata con i due cavalli che lottano per far raggiungere la B, bellissimo. Non so chi sei perché non ho segnato il tonic name, ottimo. Sei mai stato a Venezia? Se sì, ti è piaciuta, vi svelo un segreto. Ho molti parenti di Venezia perché sono mezzo Veneto e quindi, quindi sì, ci sono stato tante volte e basta. Finisco qua. Ci mi chiede quali sono le caratteristiche caratteriali che più apprezzi in una persona. L'autoironia. L'autoironia sicuramente. Il sarcasmo e l'arroganza bella. Cioè quelle persone che sono arroganti in modo ironico mi piacciono molto. Fabi mi chiede la tua rubrica preferita tra quelle che fai? È difficile. Penso il fuma cupido perché mi diverte. però però mi piacciono molto anche i fumaclassici. Mi piacciono le recensioni trash farle. È divertentissimo. Leggere il libro è faticoso ma recensirli è top. In generale mi piacciono i video dove però consiglio libri anche. Quindi non lo so non saprei sceglierne una. Martina Cescon mi chiede cosa ne pensi dei tatuaggi in generale? Mi piacciono sulle persone. Ti piacerebbe farne uno un giorno? Mi puoi salutare sono Martina. Ciao Martina. Mi piacciono molte volte mi sono venute delle idee non credo che ne farò mai perché sono per sempre. E quello è il problema mi spaventa questa cosa. Future Bound mi chiede il tuo cantante band di quando eri adolescente gli stessi da adesso Bjork, Shushu, Smith Joy Division uguali, identici Sonic Youth Placebo gli stessi. Happy Hat Hogwarts mi chiede hai mai letto il romanzo di Polanik? Ma certo che sì. L'ho già detto mille volte. Sì sì qual è il tuo preferito? Invisible Monsters assolutamente. Allora vediamo ultime due domande ultime tre domande dai perché siamo agli sgoccioli Jane Avril mi chiede hai mai letto qualcosa di Amarino Tomb? Ma c'è il mio video apposito? Non l'hai visto cosa ne pensi? Che film o registi giapponesi consigli? ti faccio qualche nome Shinya Tsukamoto Irokazu Kureda Nagisa Oshima Shohei Mamura Koji Wakamatsu Masawa Dachi Toshio Matsumoto soprattutto Funeral Parade of Roses Giapponesi mi vengono gli asiatici in generale giapponesi Kyoshi Kurosawa assolutamente Kenji Mizoguchi per stare nei classiconi vabbè parti da queste tante basi per conoscere nuovi registi fantastici Voglio Styles e mi chiede Matteo cosa ne pensi delle collaborazioni ad esempio fitti vestiti eccetera io penso che se fanno guadagnare perché no allora punto di vista le collaborazioni non sono il male dal mio punto di vista da spettatore e anche da creatore di contenuti trovo giusto fare collaborazioni coerenti con il canale cioè nel senso anche io ne ho fatte l'ho sempre detto perché voglio essere sempre trasparente con voi ma sono sempre collaborazioni più o meno inerenti al canale ci sono state delle volte in cui ho detto non è molto inerente al canale però mi piacevano troppo ve li ho presentate però in generale non ci trovo nulla di male mi fa strano quando ci vedi i fitti in un canale che parla di videogiochi per dire ma che c'entra ma cosa serve però secondo me anche il product placement è molto bello quando viene usato in modo creativo ci sono degli youtuber che lo sanno fare molto bene inserire il product placement e renderlo e renderlo il motore del video non danno fastidio perché sono il motore dell'idea no? e quindi ci sta da quel punto di vista comunque anche la collaborazione non lo so mi viene in mente Lilli ciao Lilli se stai guardando Lilli meraviglia quando riceve i pacchi cioè fa uno show suo c'è una differenza è tutto nel modo anche di presentarla di essere trasparenti e allo stesso tempo creare un contenuto anche su quello quindi non ci vedo niente di male Daniela Ciaramella mi chiede che genere di saggi preferisci? tanti tanti mi consigli qualche autore random di saggi ti consiglio le cose sull'amore di Umberto Galimberti sempre di Umberto Galimberti i miti del nostro tempo e da ultimo la società dello spettacolo di Guy Debord e retto questo il fa che è finito io vi saluto vi aspetto al prossimo video vi mando un bacione ciao ciao